Sei settimane di stop da Pesaro a Bari per il fermo pesca che anche quest'anno in questa zona dell'Adriatico blocca le attività nel pieno dell'estate nel periodo di maggior guadagno per il settore. Pescherecci all'ancora al porto di Termoli dove gli operatori devono fare i conti con la crisi e con un altro fermo, quello relativo ai pagamenti dello scorso anno. Non sappiamo il perché perché ancora arrivano. Ma il problema non è solo degli imprenditori alla pesca, ma ci sono i marinai che non sanno proprio come fare a casa. Tante famiglie in difficoltà? Tantissime famiglie in difficoltà, ma davvero non a scherzare, non sarà neanche come comprare i panni del figlio davvero. Noi da tanti anni ripetiamo, la nostra proposta è cercare di lavorare, almeno il mese di agosto, di posticiparlo a settembre, ottobre. Un settore che richiede tante spese? Sì, la prima è il carburante, quella è al primo posto, perché il carburante incide, incide il 70% del nostro ricavato complessivo. E poi altre spese che ci girano intorno, le tasse, perché nella marittima, io ho notato, sono da poco che sono dentro, ho notato che nella marittima ci sono tante, tante tasse. Il fermo biologico cambia le regole della filiera con i ristoranti che devono rifornirsi altrove per offrire un prodotto fresco ai turisti che in queste settimane affollano Termoli e gli altri centri della costa. Pesce fresco c'è, come tutti gli anni che c'è il fermo biologico, arriva da fuori, in particolare ci sono anche delle imbarcazioni termolesi che pescano sotto Brindisi, dove lì è permesso pescare. Hanno delle licenze non solo dell'Adriatico, ma lì le licenze del Mediterraneo, quindi come tutti gli anni avremo il pesce fresco. C'è anche la piccola pesca? Certo, da non dimenticare, poi il pesce che arriva da fuori viene integrato con la piccola pesca locale, quindi avremo anche prodotto fresco termolese in aggiunta a quello di fuori fresco.